Signora Romina, porto un messaggio di ringraziamento per nome e per conto del Comitato per la Difesa del Territorio e del Mare di Avetrana. Ringraziamo la signora Power. Adio. Tagliate questo. Sindaco, non è che è qualcosa di premonitivo, no? No. È una fortuna. Perfetto, perfetto. Perfetto. Effettivamente è andata bene. Raccogliamoci. Prego, Assessore. Questo è un segno, non lo faremo l'impianto. È un segno del destino. Beh, scusate, forse ritenuto il tema, qualcos'altro dovrebbe cadere, che sta a Bari, non qua. Il progetto dovrebbe cadere. Anche se del mio colore politico, però... In realtà c'è il cartello dietro...